che c'è non ti piace no belli ratti giganti ok aspetta qual era il tuo film preferito in quarta elementare lezioni di piano no non lo so forse ciao ciao birdie davvero ciao ciao birdie il musical è per bambini sì sì i bambini nati nel 1960 e invece tu che te ne esci con il riferimento a jane campion mia madre sarebbe molto fiera di te sì beh se non dormi guardi un sacco di film e mangi molte torte bevi tanto caffè due notturni ecco perché siamo amici amici ma sul serio perché non dormi sono un ottambulo sì e invece tu stessa domanda stessa risposta notturna nottambula no tu hai una storia si intuisce